Maledetto me che alle volte mi dimentico anche quanto sia dannatamente difficile tifare Juventus e per pure strana coincidenza spesso e volentieri queste difficoltà coincidono con il giorno stesso e i due giorni successivi ad una mancata vittoria della Juventus però come ho detto e come dico da qualche anno a questa parte la tifoseria juventina sicuramente è coerente perché va detto a prescindere da chi sia l'allenatore che siede sulla panchina della Juventus vale più o meno la stessa regola dopo una mancata vittoria automaticamente si deve scavare dai maroni e finalmente dopo più di due anni è ritornato l'Allegri Out dopo ovviamente la prima partita contro l'Udinese ma prima di entrare nel merito appunto io oltre che salutarvi e sperando che voi stiate comunque tutti quanti bene perché nonostante tutto nonostante il 2-2 è la cosa più importante ci tenevo di cuore a ringraziarvi per i 67.000 iscritti che siamo riusciti a raggiungere ieri ma è solo l'inizio ragazzi e questo è solo l'inizio infatti per chi ancora non l'avesse fatto porco Giuda iscrivetevi perché quest'anno dobbiamo fare il macello e si spera che lo faccia anche la Juventus in campo solo che ovviamente l'antipasto di ieri non è stato dei migliori ma appunto entrando nel merito di quello che vuole essere il mio discorso ragazzi veramente cioè alla fine dico sempre le stesse cose cioè all'inizio della stagione quando capita di non vincere qualche partita però trovo veramente imbarazzante il fatto che dopo un 2-2 come quello di ieri poi che è un'aggravante abbastanza importante si parli già di Allegri Out infatti io nel corso del video vi lascerò qualche commento che sono riuscito a trovare ieri no più che sono riuscito i primi 5 che mi sono capitati sotto tiro poi figuriamoci tipo su Twitter c'era Allegri in tendenza c'erano qualche migliaio di commenti andare a leggere tutti onestamente non mi sembrava il caso anche perché il culo tirava un pochino per tutti anche per me e se in più dovevo leggere cose aberranti meglio di no ci capiamo però quelli che mi sono capitati realmente sotto tiro ve li pubblico qui senza neanche leggerli giusto per farvi capire qual è il clima per alcuni tifosi quanto meno ma veramente ragazzi cioè parliamo un attimino seriamente se noi dobbiamo giudicare un allenatore per una partita come quella di ieri non ne usciamo veramente più anche se ieri fosse stata colpa dell'allenatore con una buona percentuale non pazienza perché insomma sapete benissimo come la penso ma penso sia semplicemente un dato oggettivo ogni dettaglio fa la differenza soprattutto quando il tuo obiettivo è lo scudetto ogni qualsiasi punto perso è un peccato e soprattutto è un'occasione persa figuriamoci magari in partite con tutto rispetto come quella contro l'Udinese dove fino al sessantesimo vincevi 2 a 0 e fino a quel momento non avevi rischiato nulla e nel giro di 20 minuti hai regalato un rigore e hai regalato un gol davanti alla porta quindi figuriamoci però appunto cioè ieri l'allenatore ragazzuoli di probabilmente ha portato parte della sua filosofia magari la ripartenza magari un pochino più di sacrificio dietro per poi ripartire allo stesso tempo però anche a mente molto più fredda il problema ieri è stato quello lì cioè c'è poco da dire perché l'Udinese ha segnato due volte su due regali tuoi su due regali del portiere con un rigore concesso dopo un tiro debolissimo centrale che non è riuscita a trattenere e dopo una cagata perché non riesco neanche a definire la papera che ha portato l'Udinese al 2 a 2 e in tutto questo se dobbiamo veramente anche dar colpa all'allenatore non ci dobbiamo neanche dimenticare dei due pali del Vara al 95esimo che lasciamo perdere e del gol ciucciato da Ronaldo sempre su colpo di testa tra i due pali se non sbaglio quindi veramente vi prego non fatemi cadere i maroni prima del previsto perché così mi sembra veramente tanto esagerato poi va benissimo Allegri già tre anni fa non era particolarmente amato anzi tutt'altro poi molto probabilmente l'anno di Pirro l'ha fatto cambiare molte idee questo senza ombra di dubbio però quella sana dose di rancore quel astio c'è sempre stato nei confronti di Allegri e se dopo una partita come quella di ieri ci dobbiamo già ritrovare qui a scannarci per l'Allegri Out significa che sarà una stagione davvero tanto pesante spero quattomeno dal prossimo mese perché sta a significare che quanto meno contro l'Empoli il tuo l'avrai fatto corto muso o 7 a 0 lì l'importante è vincere come lo era ieri perché d'altronde che cosa si può pretendere ad una squadra che ancora non è in condizione non aveva il centrocampo titolare tra infortuni e squalifiche è agosto e comunque sai magari non è neanche proprio il massimo a livello di condizione atmosferica a fare 90 minuti ad alta intensità lì bastava veramente solo vincere cosa che con un portiere che non è distrutto psicologicamente perché secondo me è di questo che si parla ieri l'avresti fatto diciamolo ragazzuoli che poi probabilmente nonostante tutto l'avresti fatto anche con una spalla 5 cm meno spessa di quella che è probabilmente in un qualche modo saresti stato comunque in grado di portarla a casa invece purtroppo alle volte il calcio sa essere anche questo e non ti perdona soprattutto quando due gol proprio li regali te riesci a farne due e decidi di regalarne due te e nonostante i pali nonostante il VAR nonostante i vari gol ciucciati comunque sono cose che paghi purtroppo in un campionato di Serie A probabilmente due robe come ieri anche in un campionato di eccellenza le rischi di pagare però attribuire tutte queste colpe tutte queste responsabilità all'allenatore mi sembra quantomeno un tantino esagerato ad oggi poi sapete se non vi a vincere contro l'Empoli poi dopo la sosta se non sbaglio ci saranno Napoli e Milan già la situazione potrebbe diventare un pochino più complicata in quel caso probabilmente forse potrei anche iniziare a capire certe dinamiche oggi fanno ridere diciamoci semplicemente la verità e ho veramente paura per come potrà essere il resto della stagione perché l'antipasto l'abbiamo avuto ed è già abbastanza pesante così l'antipasto speriamo che nel corso delle partite possa cambiare qualcosa ma onestamente dubito perché se la situazione è questa dopo un pareggio regalato da un singolo dove l'allenatore non so quale tipo di responsabilità abbia qualcuno ho visto per esempio che ha detto ha tolto Ramsey per mettere Chiellini non c'erano altri centrocampisti Locatelli l'aveva detto il giorno prima che avrebbe giocato massimo 10 minuti un quarto d'ora perché in ritardo con la condizione tanto ragazzuoli Locatelli penso che con il sassuolo in gruppo non si sia neanche mai allenato con la Juventus ha fatto due allenamenti ci può stare effettivamente che abbia un quarto d'ora a buona intensità Ramsey cos'è non lo cavi al sessantesimo ti conviene se no ti si spacca considerando che McKennie Arthur e Rabiot non ci sono purtroppo ti tocca andare a fare anche cose del genere le uniche colpe pratiche attribuite ad Allegri che ho letto sono state queste qui puoi vedere la situazione della Rosa e la situazione fisica e dici che magari effettivamente sono state sostituzioni anche un pochino forzate perché nella mia testa magari se c'era un Arthur con 30 minuti delle gambe non è che ti andava a togliere Ramsey per Chiellini probabilmente ti andava a mettere un centrocampista se ce l'aveva a disposizione però va beh va benissimo così e mi auguro davvero di non rileggere più nulla di ciò per qualche mese non per nulla perché significa quanto meno che la Juventus le vince tutte e a me conta quello detto questo io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza Juve Ciao 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 Ciao